Continua il lavoro senza sosta dell'associazione terramana Kerygma, a sostegno delle famiglie ucraine che stanno vivendo in una condizione di grandi difficoltà. In questi giorni si stanno intensificando sempre di più i flussi di cittadini in fuga. La raccolta di beni di prima necessità da inviare alla popolazione i territori colpiti dalla guerra ha fatto registrare da subito un'eccezionale risposta da parte dei cittadini terramani e non solo, che in pochissimo tempo hanno riempito con scatoloni di cibi e lunga conservazione, medicine, coperte, vestiti e prodotti per l'infanzia. Ad oggi sono oltre 30 i tir fatti partire in direzione Romania dove l'associazione ha un punto di raccolta e smistamento di tutto il materiale in arrivo. Ma serve anche denaro per pagare carburante e mezzi che l'associazione Kerygma raccoglie tramite un conto corrente pubblicato sulla propria pagina Facebook. Stiamo lavorando allacremente anche di fretta perché è un po' una corsa contro il tempo. La situazione apparentemente sembra dai discorsi sulla guerra transitoria, si discute, si valuta, si aspetta. In realtà la gente sta morendo di fame. Ieri un bambino è morto disidratato praticamente perché non è stato raggiunto in tempo da aiuti e da acqua. Quindi stiamo facendo di tutto e di più. Ieri ho ordinato altri 10.000 pagnotti di pane mandate a destinazione nella giornata di ieri soltanto a 20.000 pizze. Stiamo facendo un lavoro pazzesco grazie anche alla rete dei ragazzi delle Chiese Evangeliche Ucraine che ci stanno aiutando tantissimo perché arrivano con la macchina, si fanno 800 chilometri, rischiano la propria pelle, caricano le macchine, stracolme, poi tornano nella loro zona e distribuiscono alle famiglie, vanno nei bunker. È un lavoro fantastico ma è anche davvero una lotta contro il tempo. Facciamo un appello perché l'emergenza più passa il tempo è più peggiora. Assolutamente sì, dal punto di vista umanitario è sempre peggio, quindi io vi chiedo di continuare ad aiutarci. Andrà avanti questo lavoro qui a Teramo di raccolta fino a quando l'evoluzione della guerra non porterà purtroppo eventualmente alla chiusura delle dogane. A quel punto gli aiuti non saranno più tanto diretti e possibili. Adesso i nostri tir vanno direttamente a destinazione, sempre attraverso il centro di Varfu Campului e quindi la nostra associazione con sorelle in Romania. Andiamo con materiale mirato alle necessità, stiamo dando priorità a farmaci e alimenti. Stamattina qui da Teramo, come vedete, sono pronte le pedane per caricare un altro tir di alimenti che parte alla volta della Romania per lo smistamento diretto in Ucraina e poi continueremo così ogni pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00 fino a che ce lo permetteranno. Se potete, se volete, se riuscite, pensate anche a un'eventuale donazione. Io sto spendendo tantissimi soldi che non ho, ma insomma in qualche modo sono convinto che il buon cuore e la buona volontà riusciranno a risolvere anche questo aspetto. Grazie a tutti. Grazie.